Si trova ad Acquaviva Picena, nell'Ascolano, e non è stato risparmiato dal sisma, il luogo francescano più antico di tutta la marca, zona un tempo corrispondente praticamente con il territorio delle attuali marche. Nella regione, il poverello di Assisi arrivò la prima volta 800 anni fa, e su questa collinetta trovarono ospitalità i frati, che seguivano l'insegnamento di Francesco. Questo convento risulta essere il sito francescano più antico di tutta la marca, è sorto su questa collina che guarda in faccia Acquaviva Picena, a volerlo la famiglia degli Acquaviva, che benché fosse filo imperiale, accolse benevolmente il poverello di Assisi, che più volte passò da queste parti e appunto proprio in suo nome fece costruire questo edificio. Inizialmente qui i frati vissero in piccole celle a guardia del raccolto, e la prima cappellina fatta di pietre e calcine venne dedicata alla Madonna. Ma già nel 1228, a due anni dalla morte di San Francesco, Acquaviva veniva citata nel novero dei primi 24 monasteri. La prima importante somma per costruire la chiesa e il convento venne donata ai frati dallo scomunicato imperatore Federico II di passaggio nella zona. Nei secoli successivi l'edificio crebbe di importanza, accolse donazioni di reliquie e opere d'arte. Molti notabili vollero essere sepolti a San Francesco. Dal 1653, con la riforma, iniziò il decadimento del luogo sacro, che solo dopo 20 anni, con il verificarsi di fatti prodigiosi, come le campane che suonavano da sole e l'olio della lampada accesa davanti alla statua di San Francesco che non si consumava, tornò ad essere oggetto di pellegrinaggi e donazioni. Nei secoli seguenti ci furono periodi difficili, ma il convento mantenne il suo ruolo. Dopo l'unità d'Italia, i beni passarono alla cassa ecclesiastica e iniziò per la chiesa e il convento una serie di passaggi di mano. Oggi il convento è di proprietà di privati, mentre la chiesa è del comune di Acquaviva Picena. Il terremoto del 2016 ha reso inagibili le due strutture che ora versano in stato di degrado. La speranza è che il prima possibile arrivino i fondi per procedere al loro recupero, che vorrebbe dire per il territorio, ma anche per tutte le marche, recuperare un pezzo della loro storia.